Ma sarà il caso di dire che qui era tutto campagna, nel senso che non c'era Google, che web era? 0,5, nemmeno uno, non c'era Google, non c'era proprio il concetto di motore di ricerca totalizzante, non c'era il web 2.0, non c'erano i social, non c'era internet sul telefono, perché non c'erano gli smartphone, era internet su computer, tanto è vero che noi cominciavamo a lavorare, decidemmo di cominciare a lavorare alle 10 del mattino, perché alle 10 del mattino la gente andava negli uffici e quindi aveva delle connessioni internet un po' più decenti, perché da casa la connessione era del tutto precaria in quel periodo e per vedere un video ci voleva la mano del Signore. Erano però anni già di grande effervescenza, si preparava quella che poi fu la bolla del web 1.0, di grande effervescenza, di grande studio, poi in quel periodo uscì il New York Times, in Italia cominciò a uscire Virgilio e c'erano anche due giornali che già uscivano con la loro edizione online, senza però un notiziario prodotto da una redazione, erano la nuova Sardegna e il manifesto. Noi in realtà cominciamo nel 1996 con un esperimento di una trentina di giorni, in occasione delle elezioni politiche del credo 21 aprile 1996, quelle che portarono all'elezione di Romano Prodi, e facemmo un esperimento nel classico scantinato in piazza Indipendenza, uno scantinato senza finestre rigorosamente, ci fu una visita pastorale di Scalfari con tutto l'ufficio centrale, alla fine della quale Scalfari disse siamo disoccupati, cominciò l'inaugurazione del 1997. Già nel giornale fisicamente, ma talmente isolati che venivamo definiti gli ufficio studi, a marcare quella che è, secondo me, una limite che non è mai più stato superato, e a Repubblica e in tutti i giornali italiani, cioè la separatezza delle operazioni internet. Però eravamo nel giornale, ci tenevamo che l'ufficio centrale vedesse tutto ciò che pubblicavamo, ci tenevamo a stare alla riunione del mattino, e facevamo la nostra giornata dalle 10 alle 20, con un limite che in un primo momento non lavoravamo, perché non c'erano le forze, non c'era la disponibilità, il sabato e la domenica. Con il risultato che quando morì Lady Diana, che morì di domenica mattina, noi eravamo online e da lì capimmo che dovevamo essere sempre online. La home page mi fa l'effetto delle biciclette del fine 800 rispetto a una moto di Valentino Rossi di oggi, era fatto tutto a mano, oggi sono sistemi editoriali, e soprattutto non c'era database, cioè se tu volevi cercare una pagina, te la devi andare a cercare manualmente. Però c'erano tante idee che mettevamo in pratica. La prima fu quella lì di creare contenuti nuovi rispetto al giornale, stili di vita per esempio, rispetto al quale ci fu chi disse che noi avevamo pubblicato foto di uomini nudi, no, avevamo fatto un servizio sulle comunità gay che sulla rete cominciavano ad aggregarsi. A noi era sempre stato chiaro che internet non era un canale di trasmissione, ma era un luogo dove si aggregava umanità. E quindi bisognava andare incontro a questa umanità, con dei contenuti nuovi. Era un discorso che facevamo abbastanza da soli. E fu la battaglia degli anni successivi quella di portarla nel giornale. Abbiamo contribuito a far scoprire la cultura digitale, che oggi è una realtà maturata, e a portare verso un nuovo giornalismo. Dove abbiamo fallito, e qua non dico noi di Repubblica, tutti, dico perfino gli americani, è nel creare un giornalismo di successo, digitale di successo. Cioè il giornalismo dei giornali non è riuscito a raccogliere tutto il desiderio di giornalismo che c'era nel pubblico di internet. E questo desiderio poi si è sparso come acqua fuori dagli argini di un fiume, straripato verso altri lidi. Cosa accade su Twitter, su Facebook? È informazione. Anche se è informazione del junk food, della bufala, anche se è il cibo spazzatura, ma è quella family lì, era l'informazione. Io ritengo Repubblica IT e gli altri giornali che nel mondo hanno fatto questo lavoro, perché abbiamo fatto tutti le stesse cose, una sorta di staffetta verso la cultura e l'informazione digitale. Staffetta di successo perché ha creato siti importanti con milioni di visitatori, ma battaglia storica perduta dai giornali, dagli editori e dai giornalisti che avrebbero dovuto capire che la battaglia era per la propria sopravvivenza, per la propria legittimazione e non ci hanno mai creduto. Prima si sono chiusi nell'arroganza, poi adesso nel panico. Bisognava combattere una battaglia per dare al nuovo pubblico che arrivava, cioè l'umanità, una grande mole di informazione. Perché quando ci si meraviglia che gira l'informazione spazzatura, bisogna chiedersi che cosa hai fatto tu per far circolare informazione corretta.